finale nazionale saranno famosi guarda qui guarda qui no 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 i famosi sono di là siamo al golf nazionale stai con noi scusa scusa no 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 non con me con tutti noi è un campo pratica da major quello che incontriamo alla finale nazionale del circuito saranno famosi ragazzi e ragazze da tutta italia sul famosissimo nazionale il percorso della federazione italiana golf è un'emozione giocare su questo campo dove gli amatori più forti del mondo ed i più grandi professionisti internazionali sono passati per gare ed allenamenti intorno al green abbiamo visto una qualità stellare tra mound e superfici da giocatori superstar del circuito ragazzi guarda qua siete fenomeni nella classifica under 14 maschile la lotta è serrata e servirà un playoff per decretare il campione tommaso regoli riesce nell'impresa sulla famosa 18 di sutri con un agguerrito alessio santinelli bella sfida che si conclude come le più importanti gare in tv e la romana fabrizia salituro la nuova campionessa under 14 gioco regolare decisa e convinta nelle scelte fabrizia che classe e che vittoria in questa stagione tra gli under 12 abbiamo due nuove promesse samuele pollastri di modena grande sensibilità golfistica e feeling da campione ed elena sartori da campiglio capace di guadagnare enorme vantaggio inizio torneo per stordire gli avversari godetevi questo pubblico ragazzi e gli abbracci di chi crede e crederà per sempre in voi ci avete fatto divertire e capire su chi puntare gli occhi per il futuro del golf italiano ragazzi ragazze avete giocato e vinto al nazionale ora andate in clubhouse a guardare le fotografie di chi prima di voi è passato da qui complimenti ragazzi siete i nuovi campioni del saranno famosi come è andata oggi tanti verdi però ho alternato bei salvataggi anche a errori piuttosto stupidi non ho guardato il gioco degli altri ho giocato solo per il mio sono felice di come ho giocato due chiacchiere sul campo a voi commenti green erano perfetti anche molto difficile erano veloci belli duri è stata una stagione molto importante è andata molto bene ho cominciato a vincere e alla fine ho vinto anche la finale e sono contentissimo sicuramente ha avuto meno alti e bassi rispetto all'anno scorso questo inverno su cosa lavoriamo magari lo swing e non arrabbiarmi troppo il campo devo lavorare tanto sul gioco corto e patta ferri lunghi a chi vogliamo dedicare la vittoria alla mia famiglia che mi sostiene sempre al mio maestro andrea costa e a gianmarco libardi che ci aiuta sempre dedicò la vittoria a me e i miei genitori alla mia famiglia al mio maestro che mi ha seguito per la maggior parte della stagione alvaro brunella e il mio nuovo maestro guido caneo e poi volevo fare una nomina speciale perché ho promesso a un mio amico di nominarlo quindi grazie alberto balestra alla mia famiglia e mio papà che mi porta sempre le gare e a questo punto complimenti elena fabrizia samuele tommaso siete voi i nuovi campioni nazionali del saranno famosi singhier life